Buongiorno a tutti gli amici del Bar Gonfiato. Prima di iniziare ad analizzare la quinta giornata, ma diciamo una quinta giornata piuttosto calma direi, c'è un primo grande passo di 30 lange. Gli arbitri ritornano dopo decenni a parlare in una trasmissione tv con il loro arbitro più rappresentativo Daniele Orsato. Dopo tante promesse nicchiane non mantenute, una delle tante, ecco finalmente che la nuova amministrazione AIA comincia a dare primi segnali positivi e propositivi. La speranza è che la nostra cultura sportiva comincia a crescere e che alcuni giornalisti siano meno tifosi e più sportivi. Daniele Orsato sarà questa sera ospite al nonantesimo minuto e incrociamo le dita e sono convinto che come il VAR, che non tornerà più indietro, anche gli arbitri che parlano sia segno di evoluzione, ma dipende da tutti gli addetti ai lavori. Quinta giornata a Torino Sassuolo viene rinviata a causa dei troppi contagiati nella società Granata, viene rinviata il 17 marzo 2021. Ieri si è svolta alle 15 Spezia-Palma finita con il risultato di 2-2, arbitro appunto Daniele Orsato che in questo periodo sta dirigendo diverse gare di cartello per quanto riguarda la zona retrocessione. Il Palma non riesce più a vincere anche quando si trova in vantaggio di due reti all'Alberto Picco di La Spezia e rimane sempre in piena zona appunto calda. Un primo tempo da dimenticare per i padroni di casa, ma nella ripresa trovano la forza di reagire e rimontare meritatamente. Un solo episodio da sottolineare, siamo al quarantesimo, ci vuole il VAR per fare evidenziare un millimetrico offside. Erlich lancia sulla sinistra Bastoni che mette al centro dell'area friulana e maggiore batte di testa sepe. Bacini e Orsato convalidano la rete, ma Pairetto al VAR fa annullare per la posizione millimetrica, ma irregolare appunto di Bastoni. Orsato dirige senza problemi. Bologna-Lazio terminata con il risultato di 2-0 per i felsinei, l'arbitro di Giacomelli di Trieste è quadruvato da Paganessi a Palermo. Bella prova di forze dei felsinei appunto dei bolognesi al Dallara e la Lazio non trova energie e qualità nei suoi uomini migliori. Luis Alberto e Immobile non sono decisamente in giornata e addirittura quest'ultimo si fa parare un calcio di rigore dall'ottimo Skorupski. Siamo intorno al 17esimo minuto, Correa in possesso di palla, sul vertice dell'area di rigore rosso-blu, tenta di entrare in area controllata addirittura da ben tre difensori, ma Dominguez ingenuamente colpisce il piede destro del Laziale, sotto gli occhi di Giacomelli che non ha nessun dubbio ad assegnare il penalty, nonostante l'accentuata caduta di Correa. Ma il rigore c'è, Immobile si fa parare il penalty. E la Severona-Juventus terminata 1-1, l'arbitro è maresca della sezione di Napoli con Liberti e vecchi i suoi assistenti. Non basta alla Juventus il solito Ronaldo, autore della sua 19esima rete in campionato, eppure la signora sembrava determinata quella scesa in campo al Bendegodi, con il Verona che si difendeva con qualche difficoltà. Dopo il vantaggio i bianconeri hanno cominciato a controllare la gara, ma lasciano troppi spazi agli schialiceri, che trovano il pareggio con un poderoso colpo di testa di Barak, che fa evidenziare le pecche difensive juventine. Le assenze di Chiellini e Bonucci si vedono e come. Addirittura il Verona con Lazzari, all'85esimo, sfiora il sorpasso con una bordata che colpisce la traversa. Bene maresca soprattutto nel secondo tempo. A più tardi.